Sura 88 Al-Rashia L'Avvolgente In nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso Ti è giunta notizia dell'Avvolgente? Ci saranno in quel giorno volti umiliati, dispossati e afflitti, che bruceranno nel fuoco ardente e saranno abbeverati da una fonte bollente. Per essi non ci sarà altro cibo che il Dari, che non nutre e non placa la fame. Ci saranno in quel giorno volti lieti, soddisfatti delle loro opere, in un giardino elevato, in cui non sodono discorsi vani. Colà via una fonte che scorre, colà alti divani e coppe, poste a portata di mano, e cuscini assestati e tappeti distesi. Non riflettono sui cammelli e su come sono stati creati, sul cielo e come è stato elevato, sulle montagne e come sono state infisse, sulla terra e come è stata distesa. Ammonisci dunque, che tu altro non sei che un ammonitore e non hai autorità alcuna su di loro. Quanto a chi volge le spalle e non crede, Allah lo castigherà con il castigo più grande. In verità a noi ritorneranno, e allora spetterà a noi e dar loro conto delle loro azioni. Grazie a tutti.